Una media discarica in una delle periferie di Vittoria, a pochi metri da un asilo nido, da mesi giace lì. Si trova in via 20 Settembre in fondo, a pochi passi dalla vallata dell'Ippari, poco dopo la via 4 Aprile. Accanto ad un cassonetto vuoto, una montagnetta di Eternit, la denuncia è stata fatta dal papà di una delle bambine che frequentano l'asilo nido attraverso Facebook. Oggi il social network più diffuso, la bacheca virtuale per eccellenza, è divenuta uno dei canali maggiormente utilizzati per denunciare scembi ambientali e non solo. Poco distante dalla discarica di Eternit, di via 20 Settembre, proprio a ridosso della vallata dell'Ippari, un'altra discarica sempre di Eternit. Anche quella giace da mesi, senza essere toccata. Alcuni vicini riferiscono che ogni tanto la ruspa del lamio ripulisce, gettando tutti i rifiuti nella vallata e non rimuovendoli. Intanto l'effetto di scariche abusive continua ad essere uno dei tanti problemi della città e Parina. Purtroppo, alle difficoltà tecniche di un'azienda che sconta, mezzo obsoleti e rotti, si affianca un senso di inciviltà che ancora oggi regna tra i cittadini di Vittoria. La scorsa settimana il viaggio nelle discariche ci ha portato ad esempio a Contrada, Zafaglione, Lucarella, Costa Fenicia, oggi addirittura nell'abitato di Vittoria, in una delle zone di periferia, alle spalle del centro storico.